cari amici benvenuti in questo nuovo video di shakes and fidget al gabinetto ma come il gabinetto è la causa principale di ogni video shakes and fidget perché come vedete lo sciacquone è pieno di melma di giampancrazio suppongo dici che tutte le persone che la comprano direttamente la buttano via quei poveretti che cantano fame e si lasciano fregare tira 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 gliela addosso quando lo vedi ma un altro un altro vuoi che si veste da drago si si veste da drago anche lei quindi non sarai l'unica vestita da drago siamo tutte due vestite da pirla che bello dovreste veramente fare una specie di parte dove tutti devono vestirsi da drago rosa ti prego non mandami l'invito te lo manderò sicuramente guarda lui invece c'ha i guanti a coniglio e lui ha le pantofoline a coniglio le papucce che tenerezza che cose imbarazzanti capiano da queste parti e ci credo la tua squadra deve essere una squadra di pirlotte cosa vuoi dimmi con chi devo battermi oggi vediamo posso venditi contro quello più cattivo che ti batte sicuramente allora 204 di attaccia di livello è troppo forte a troppa destrezza a meno più costituzione magari magari muoio magari muoio miseramente vedi lasciami scegliere contro chi devi morire non morire contro chi decidi tu e scusa e va bene la vasta volta ti lascio scegliere la tragedia cioè io riesco a farmi scegliere va bene vai vai dove vuoi ci sono tutti vai dai famigli dai famigli dei famigli ops com'è forte che forza che forza almeno per una volta ho scelto io con chi dovevi perdere sono un epic fail vagante ogni volta che io non registro faccio delle cose fighissime appena arriva la registrazione faccio schifo proprio è matematico che ne dici di andare da bavuvu a bavuvu a bavuvu a bavuvuvu a bavuvuvu di truffo.com hai trovato un anello un anello l'epico non è l'epico guardalo destrezza zero intelligenza zero costituzione zero fortuna zero vai vai dal mio amico frizzino qui l'amico frizzino l'amico frizzino che in realtà avrebbe un nome ma quello che non è da lui bertram il frizzino che cos'ha lui l'anello è più bello è più brutto del suo l'anello l'anello ecco l'anello 433 di forza contro 427 meglio cioè mamma mia sì abbiamo finalmente trovato l'anellino con i superpoteri epici cioè questo qua è il titolo da youtube i superpoteri epici incastoni anche una gemma è una gemma della forza così è molto meglio bisogna entrare nella torre e battere la fata a buone intenzioni sai quant'è che ci sono bloccata con la fata io prossima battaglia vediamo quanto si sbaglia mamma mia che bebe a me non sembra che abbia buone intenzioni no neanche noi però perché se no non devo batterci musate continuamente perché non usi tutti i funghetti finché non li perdi tutti perché no piuttosto me li fumo guarda con l'erba pipa preferisco quel punto più utile ma sei troppo scarsa oggi cioè non sei riuscita a combinare niente facciamo vedere cari amici come funziona un account come si deve facciamo scendere in campo x7 quando il gioco si fa puccioso i pucci cominciano a giocare ma io sono pucci solo che ho sfortuna ma guarda un pochino vado su da sto tipo che mi dà una missione piena di noccioline anzi no vado da questa missione che dà un sacco di punte esperienza guarda qua è proprio epicissima hai trovato qualcosa di epico nei negozi di recente nei negozi non vado mai nei negozi che c'è nei negozi niente un po di shopping ogni tanto ma io non faccio mai shopping perché mi hai preso una testa di pesce una ringa rossa della mano onesta cioè te la regalo no grazie sei sicura? si guarda la mia fortezza com'è più brutta cioè veramente non hai neanche maghi non hai arcieri no ho finito tutto sono tutti morti sono tutti morti no ecco cosa dovevo fare portargli da mangiare ogni tanto sì anche le miniere l'ha aggiunto mi sono scordato si dovrei sprecarli tutti ma no ma cambia avversario sprecarli tutti ok dai andiamo con questo bello bello saggio vai prossimo a te sei dai blam 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 cugans Hans 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 erano i nomi dei miei soldati li chiamo tutti per i nomi prima di mandagli a morire perché almeno che vengano ricordati da loro stessi come fai a ricordarti i loro nomi? mamma mia quanto costa? ti ricordo che sei con i soldati dimezzati ho spiegato troppi soldi si te ne ho dimezzati i soldati non puoi andare da nessuna parte ricaricati e ce la posso fare? no non puoi ecco ho visto avevo detto prima o poi che ce la facevo vai però ti rispondono a comando hai visto? basta mandagli a morire e muoio non è mica male cioè è fantastico andiamo un attimo nella gilda e andiamo nella bestia pungente che è all'80% ora vedrete che arrivo io e faccio l'attacco più bello del mondo non credo guarda gli ho tolto 67.000 cioè cioè 67.000 parliamone lui ti ha tolti tutti però e ora l'ammazzo con un colpo però gli ho fatto 110.000 cioè cioè ti ha ammazzato con due colpi effettivamente non male guardami lì super epico super epico grande vittoria grande ma ne ha con un oggettino va bene ne ha con un oggettino più è qualcosa più se ne ho migliorato un sacco dall'ultima volta che ho combattuto guarda se vado conto questo no il colpo guarda guarda come lo mangio fritto lo faccio fritto me lo faccio sicuro che sei l'ora stef fritto che buono sono ore dei dungeon sono c'è stato bellissimo c'è il dragon delle paludi anche questo vai contro tutti questo è carino non mi guardo il bel uccido cioè era troppo bello per ammazzarlo lui non importava niente di te io che non l'ho ammazzato cioè proprio proprio perché gli volevo bene lo solito di livello ma 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 così si fanno i dungeon capito ma io veramente così si fanno i dungeon mica come te mica come te dammi un sacco di cose belle dai per favore legno a me serviva anche sta roba cioè anche il legno ha la sua utilità bene bene poi mi raccomando andiamo anche a potenziare la sala dei cavalieri quando uno può farlo perché aiuta la gilda quindi resto senza soldi ma lo faccio per il bene della gilda eri già senza soldi in questo modo le tue gemme verranno più belle più luccicanti più rosa oh che bello infatti mando proprio qualcuno a minare mando i sette lanettini chiria chirola chiriosa chiroletta chirunza chiriozza chiriafida e chirialallalla non è chiriorbi no no chirialallalla chirialallalla canticchiava sempre gli abbiamo dato un nome del genere bello ok andiamo naturalmente anche dei miei famigli e vabbè ma i tuoi sono scrausi oh ma gli faccio male a questo cosa gli facciamo una bella palla di fuoco ho usato fuoco con te uso fuoco con me così almeno ti dimostro come si mandano i famigli in battaglia guarda mica come te che sei scarsa così si ammazzano i nemici hai visto hai visto e dato che l'ho potenziato potremo anche mandarlo in battaglia vieni qua a fargli vedere dentiglio come sei devastante cioè ma sei troppo proprio solo cose epiche io vedete vedete perché uso il mio account e faccio vedere come si gioca questo gioco ma non è che non so giocare è che semplicemente le cose carine le faccio tutto off camera è vero garantisco ringraziamo tantissimo la gilda che sta costantemente cercando di progredire e portare alto il nome e potenziamo il tesoro naturalmente ringraziamo tutte le persone che stanno facendo delle donazioni soprattutto anche in oro perché anche quello serbi sono sempre super sprovvisto qualcosa nel gabinetto è un sacco che lo buttino nel gabinetto aspetta il gabinetto è nella taverna aspetta saltiamo ogni tanto devo essere impaziente sennò qui non si dice mai una prugna ho detto che dovevi andare al gabinetto allora aspetta un attimo mangio la prugna e vado al gabinetto è tempo che ci vada ecco qua cosa ci butto ho le pietre che sono rosa però ti consiglio di tenerle che sono belle rosa che schifo potrei buttarci l'anello te lo cambia io te lo dico e allora ci butto la prugna ho buttato la prugna ho buttato la prugna nel gabinetto che schifo infatti ho fatto tantissima melma la prugna la prugna è epica se avete tante prugne tenetevi sempre a portata di mano un gabinetto e una carta igienica noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi in shakes and fidget anche questo mese ci rivediamo il mese prossimo dove andremo a visitare ah perché sono senza animaletto domestico perché sono così lento anche la tigre la tigre ciao tigretta ok ho preso la tigre e sono pronto di nuovo a partire noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi ci vediamo a gnarogrim quindi mi raccomando il raduno sarà lì portatevi sempre la calza maglia in testa se non vi conosciamo e alla prossima con gli eterni love ciao ciao Ciao